La mia è l'unica forza politica, l'unica coalizione che ha presentato la squadra assessorile, la giunta con cui intendiamo amministrare Taranto. L'ho deciso di farlo perché è una questione di correttezza, di linearità nei confronti del cittadino elettore, deve sapere il cittadino, deve conoscere le persone con le quali iniziare il percorso di guida, il percorso di amministrazione della città. Io quando vado a comprare una macchina, ad acquistare una macchina, devo conoscere le caratteristiche di questa macchina, se va a benzina, se va a diesel, se è un ibrido, quanto consuma, quanti cavalli ha e se la macchina mi convince la compro, altrimenti no. Io voglio essere chiaro con gli elettori, gli elettori devono conoscere i singoli assessori, ramo per ramo, settore per settore e valutare la bontà di queste scelte. In cabina elettorale il cittadino liberamente deciderà se apprezzare o meno, se dare fiducia o meno a queste ipotesi. Per questo ho designato vari assessori. Oggi vi presento l'architetto Luca Lopatriello, che è il designato assessore ai lavori pubblici, all'edilizia, all'urbanistica e al patrimonio. Ci siamo conosciuti con Luca così, per caso, una iniziativa appunto a tutela di Porto Cupo. Abbiamo avuto modo di conoscerci, di confrontarci ed è nata, diciamo così, è scoccata la scintilla. Perché quando alla indubbia professionalità si unisce un amore per il territorio e la voglia, la capacità di metterci la faccia, di battersi per le cause nelle quali si crede, beh questo è il, come dire, l'elemento discriminante, proprio in positivo, quello che mi ha, il discrimin che mi ha indotto a scegliere appunto la persona di Luca Lopatriello. Allora Luca, intanto presentati. Buongiorno a tutti. Allora io, come ha detto già Luigi, sono un architetto, però prima dei titoli voglio dire a tutti sono un tarantino. Un tarantino che come tanti ha iniziato un corso di studi a 18 anni in architettura in una città lontana, che era Torino, nella quale mi sono formato. Grazie alle mie capacità, ai miei studi, anche insomma un po' al fatto che fossi portato per gli studi di architettura, sono subito entrato in studi in cui c'erano tanti lavori. Ho sempre detto quella è stata la mia palestra, lavori di restauro, esanamento conservativo, progettazione, con il pubblico, con il privato. Grazie a queste possibilità e alla mia capacità, in pochi anni, perché io ho solo 46 anni e sono giovane, quindi ho potuto acquisire queste capacità e divertirmi nel fare derealizzare cose importanti, anche per commettenze importanti, perché come molti sanno, però lo voglio ribadire, il restauro è un po' una nicchia, si parla di palazzi nobiliari, si parla di proprietà in mano a signori che comunque hanno... Parliamo di alcune esperienze con alcuni soggetti importanti. Sì, voglio però sottolineare che il fatto che la famiglia, ho lavorato per lavori per la famiglia Borromeo, ho lavorato anche per la famiglia Trussardi e sono alcuni dei nomi con cui ho lavorato, ma questo comporta il fatto che chiaramente c'era disponibilità economica da queste famiglie, ma c'era anche la sensibilità e tante volte, non lo nascondo, noi tecnici ci sentiamo anche in imbarazzo, per quanto queste famiglie in alcuni casi sappiano più di quanto sei tu, quindi resistere e lavorare per queste persone prevede tanta abnegazione, tanto lavoro e tanta passione, quella che non mi è mai mancata. Però, ecco, voglio dirlo a tutti chiaramente, il desiderio più grande era rientrare a Taranto e poter fare qualcosa per la mia città, perché è una città che amo, l'ho detto già nel primo nostro incontro che citava Luigi, un amore per la città di Taranto, che voglio darvi questo mio punto di vista. Io ho visto Taranto, stando lontani, come si vede un nipote crescere, ma lo si vede non spesso, ogni tanto, quindi uno va lì e dice, è già cresciuto, è già grande, invece io tornavo a Taranto e vedevo a distanza di tempo, perché facevo l'estate come tutti o le vacanze natalizie con la famiglia, vedevo Taranto nana, è stata nana per anni, nana vuol dire non cresceva, non è cresciuta, anche se nelle intenzioni cresceva il malumore, la disperazione dei miei amici, dei miei conoscenti, dei miei familiari nel vedere una città che in tanti anni, troppi anni, non ha fatto alcun passo in avanti. E questo è stato uno dei motivi per i quali ho detto anche a Luigi in quell'occasione, io ci sono, sono pronto, sono maturo e voglio portare tutte quelle che sono le mie conoscenze, poi voglio dire anche un'altra cosa, le conoscenze sono un po' di tutti, perché oggi è facile recuperarle. Le persone sono importanti, cioè alcune persone hanno quel quid, quelle idee, quelle visioni che altre non hanno, quindi bisogna anche dire che se uno arriva a fare dei lavori e viene riconosciuto e ha certi tipi di clienti, voglio dire, ha qualcosa anche da dire, questo è quello che mi sento di, parlando di me, di dirvi. Ok, Luigi raccontava il nostro incontro, insomma come ho detto è un incontro non a senso unico ma a doppio senso. Anch'io normalmente sono non un orso, però mi piace circondarmi dei miei libri, le mie riviste, i miei progetti e non ho mai pensato comunque insomma di poter avere queste responsabilità, anche se è stato il sogno, come ho detto, però ho detto chissà quando avverrà. E voglio anche dire che nei riguardi di Luigi è scattato anche della mia parte subito questa appartenenza alla causa, uno perché chi si mette in gioco, chi non ha paura con un microfono che sembra un'arma, a molti sembra un'arma, sembra che sia quasi una sciabola, in realtà è solo un microfono e la capacità e la volontà di mettersi a confronto a mio avviso è indice indissolubile di correttezza, di onestà e insomma di una persona che ama, ama il nostro territorio.